Benissimo, siamo pronti. I'm going to close registration, so hurry up, sbrigatevi, veloci, 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 veloci. Ok allora, in bocca al lupo a tutti, esatto. Santiago, you the purple jelly, la medusa viola. Santiago e la medusa è perfetto. Ok, so again, if you won the prize, enter your email at that isrimedus.com game. Anyway, ok, let's start, ok? Let me switch back. And I hope I switch back, I don't know. Perfetto, ok. So siamo pronti? Siamo pronti? Just a reminder, so this game show is for beginners, it's not going to be super difficult, it's ok if you're more advanced, you probably will win, but the prize is drawn randomly, so it doesn't matter, ok? Siamo pronti? Pronti? Ok, look at your phone, look at your phone, guardate il telefono, guardate il telefono. So la domanda è, which is correct? Sono italiano? E italiani? Siete italiano? Siamo italiano? If I set it up right, because I did it over the past two days when I wasn't sleeping, so if I set it up right, the right answer will give you a point. Also you get points for being quick, ok? 127 persone hanno detto sono italiano. No. Cento per cento giusto, ok? Ok, you're not beginners, are you? Benissimo. Wow, complimenti. Prossima domanda. Siamo pronti? Guardate il telefono. Pronti? Guarda il telefono. Which is correct? Tu non parla tedesco? Tu non parlo tedesco? Tu non parliamo tedesco? Tu non parli tedesco? Tu non parli tedesco? Only one is correct? C'è solo una risposta giusta? Qual è la risposta giusta? Tu non parli tedesco? Esatto. Il verbo per il soggetto tu è un verbo di seconda persona, e quindi il verbo parlare si usa parli perché significa tu parli. Bene, bene, bene. Siamo pronti? Ok. Get ready? Pronti? Guarda il telefono. Which one is right? Come si dice? Quanti anni Lucia hai? Quanti anni ho Lucia? Quanti anni Lucia ha? Quanti anni ha Lucia? Qual è la risposta giusta? È la risposta quattro. Quanti anni ha Lucia? Quanti anni ha Lucia? È una strana strana strana, quindi dovrai usare la strana 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 in italianze. È non strana, è solo diverso da l'inglese. se l'inglese è il native, ok? Benissimo. I believe there's a way for you to send love to the slide. Can you send some love? I don't know if there's a way, but I remember there's a way for you to send love. Mandatemi i cuoricini. Mandate i cuori. No? Mandate i cuori. Mandate i cuori. Non lo so, vabbè. Allora. Siamo pronti per la prossima domanda? Scusate ma io non vedo la chat, ok? Non vedo che cosa scrivete. Oh grazie, quanti cuori. Pronti per il countdown? Turn into the plural. Lo studente felice. La risposta giusta è gli studenti felici. Maschile plurale, quindi studenti e maschile plurale, quindi l'aggettivo è felici. E l'articolo è gli perché studenti comincia con s e consonante. È una delle regole della pronuncia italiana. E quindi anche della grammatica. Don't worry if you're not getting it right, ok? Prossima domanda. Siamo pronti? Alex, if you can't answer it's because you joined the quiz too late. And so, yeah, the question has already been closed because the answer has been given. That's why I said you had to be participating when it was really live. So if you're a little behind, you can't really participate and I'm sorry. But you can still, hey, a little secret. A little secret. You can still drop your email at italimedeasy.com slash game. We'll still draw you even if you're not participating in the game, ok? Pronti per la prossima domanda? Pronti? Guardate lo schermo. The Italian present tense can be used to speak about the future. Sì o no? Possiamo parlare del futuro con il presente in italiano? Sì o no? Questa è facile. Relativamente. La risposta giusta è sì. In italiano possiamo usare il presente per parlare del futuro. Per esempio, l'anno prossimo vado in Francia. L'anno prossimo. Next year I'm going to France. I'm going to France. Bene, bene. Bravi, bravi. Quanta domanda man... siamo alla domanda 6. Oh, sbrighiamoci. Pronti la prossima? Siamo pronti? Santi, how are you going with this? Santiago. Turn into plural. Il plurale di la stazione grande è i stazioni grandi, gli stazioni grandi, gli stazioni grandi, le stazioni grandi. I love that you're participating in the chat if you can't take the quiz... Eh fantastico. Bravi, bravi, bravi. Qual è la risposta giusta? Le stazioni grandi. Le stazioni grandi, esatto. Allora, stazione è una parola femminile che finisce con zione. E il plurale è zioni, sempre. Let's move on. Domanda numero 7. Pronte? Yeah, sorry if you can't participate, because you had to start at the beginning. Posso parlare italiano? This one is a tricky one, ok? What does posso parlare italiano mean, really? I know how to speak Italian. I am allowed to speak Italian. I want to speak Italian. And I must speak Italian. Careful, because this one is tricky. Most English speakers use it wrong, ok? So, I'll know how many English speakers I have. No, I'm kidding. Based on the number of incorrect answers. Yes, bravi. La risposta giusta è, I'm allowed to speak Italian. Potere is about permission and possibility. It's not about skill, ok? And that's a very common mistake for English speakers. Because in English you say can all the time. Bene. Domanda numero 8. Siamo quasi alla fine. In the meantime, Pat, could you please send me the list of names? No emails, just the names, ok? Allora, pronti? Abbiamo 312 studenti. Sara e Marta il giapponese. Sara e Marta studiano il giapponese. Sara e Marta studiamo il giapponese. Sara e Marta studiate il giapponese. Sara e Marta studio il giapponese. Bene, 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 bene. Ok, let's have a look just out of curiosity, ok? Quindi teeny peppa, o tiny, probably tiny peppa, vince per ora, per ora, just for now. And again, the prize will not go to the actual winner of the game because you could be at any level. So we will just draw it randomly, ok? Ok, l'ultima domanda. No, no, la penultima domanda, ok, scusate. Pronti? Which is correct? Come si dice? Look at your phone, guarda il telefono. No. Cosa lingua parli? Che lingue parli? Quali lingue parli? Che cosa lingue parli? I believe there's two possible answers if I did it right. If I did it wrong? Scusate. If I said it wrong, ok? Scusate. Sì, ok, due possibilità. Che lingue parli? Quali lingue parli? Quali lingue parli? What languages do you speak or which languages do you speak? Ok? Bene, l'ultima domanda, ok. L'ultima domanda. Pronti? What sound is in that word that I'm not going to pronounce? Is it the as in share? Is it the as in cherry? Is it the as in skate? Come si pronuncia that word? Quella parola. Aspettiamo il voto. You say sc as in skate? Esatto. Si dice bruschetta. Bruschetta. C-H-E in Italian it's always che. C-H-I it's always chi. So every time you see C-H you're going to pronounce the C, ok? Bene, bene, bene. Ok. Allora, il vincitore del quiz… Ok, l'avete visto. Ma non importa, non importa. Perché non è così che noi decidiamo il vincitore. Perché vogliamo dare la possibilità di vincere a tutti. Che cosa vinci? Allora, vinci un anno di abbonamento a Italy Made Easy Academy that you cannot get in yet because we are opening in an hour, I think. Ok? And then I'll tell you what happened with the website before this. And that's why I haven't slept. But you're going to win one year subscription to Italy Made Easy Academy. The subscription is called Amico Extra because we have extra friends. And now I'm about to… Joy! No, Stephanie, Stephanie. I won because I played. Esatto. Sono d'accordo. Tutti abbiamo vinto. Tutti abbiamo vinto. And actually you will all win because you can all get into the academy. So… Everybody wins. Ok, let me find out… Ok. Ok. Adesso scusate ma devo… Devo prendere tutti i nomi. Che sono moltissimi. Che sono moltissimi. E vado su un sito. E adesso lo condivido. Siamo pronti eh? Siamo pronti credo. Fammi… Fammi vedere. Mamma che stress. Ok. Allora. Adesso abbiamo messo lì tutti i nomi di tutti i partecipanti al quiz. E adesso ne estraggo uno a caso. So. Dilvan. Dilvane Zanardin. Dilvan. Dilvan Zanardin. Hai vinto. So you won a year subscription to Amico Extra. When the Academy opens. And you know… We'll email you because we have your email. So. Congratulazioni Dilvan. I think. Doi dove sei? Dilvan se sei nella chat. Dimmi di dove sei. O dove sei. Un attimo che non vedo la chat. Eccoci. Dilvan. Yeah bravo. Di dove sei? Complimenti a tutti eh per aver partecipato. Now don't worry. We actually have two more games coming up in the next seven hours. Ok. I'm gonna be here. I don't know if you're gonna be here. Congratulazioni comunque. We'll be in touch with… In Portogallo. Most… Mas você… Mas é Português. Você é Português? Ok. Good. Bene! E aí Grazie.